Il mondo della cultura inizia a sperare in un ritorno alla normalità. Con la capienza aumentata al 100% per cinema e teatri, viene meno l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, una notizia che tuttavia non ha suscitato in tutti la stessa reazione positiva. Tutti questi posti così in vicinanza può lasciare un attimo perplessi. Insomma, ci si trova stretto contatto di gomito con le persone. Ognuno si regolerà con... Lei avrebbe preferito una capienza con i posti più distanziati, quindi non a capienza al 100%. Io sì. Quindi se le dovessi fare una domanda, lei adesso andrebbe al cinema, magari valuterebbe quante persone ci sono? Ci stavo pensando e mi stavo giusto facendo questa domanda, ma ancora una risposta non me la sono data. Il virus circola ancora e quindi io sono per la massima attenzione. Nonostante il vaccino è tutto, insomma. Nonostante il vaccino è tutto. Parola chiave, insomma, prudenza ma anche fiducia nel futuro. Cinema e teatri hanno sofferto a lungo, ora sperano di poter tornare a regalare al loro pubblico quella sana evasione di cui c'è tanto bisogno. Dove dire che noi ci eravamo un po' abituati alle nostre bestiole in sala, però insomma siamo anche molto felici di riporle e ci auguriamo veramente che non riappaiano più sulle poltroncine del teatro. Adesso c'è da riabituare un po' il pubblico a stare... Non c'è dubbio, sarà un inizio di stagione abbastanza faticoso perché tutti ci siamo un po' anche impigriti. Però io credo che veramente la forza del teatro è sempre quella di condividere con gli altri. Cioè uno spettatore non è mai uno spettatore singolo, ma vede uno spettacolo insieme agli altri, respira agli altri. È un grande momento di crescita culturale civile. A giovedì abbiamo Alessandro Paci con diletta oculistica, uno spettacolo brillante, una commedia molto divertente. Veniteci a trovare perché ne abbiamo bisogno e credo tutti i teatri italiani. È un appello non solo per i rifredi, ma andate a teatro, cominciate a tornare a riempire i teatri. Abbiamo bisogno veramente di voi. La sensazione è che ci vorrà ancora tempo prima di rivedere il tutto esaurito ed è confermata anche dai gestori che a telecamere spente hanno confessato che in tanti chiedono di avere posti distanziati nonostante l'obbligo di esibire il certificato verde e di indossare la mascherina. Quella notizia, però io andavo anche se non era al 100%. Mi dice che al 100% qualcuno ha anche più paura perché comunque i posti sono più vicini alla fine, visto che sono a capienza al 100%. Comunque si entra con il Green Pass. Ma a chi gli piace andare al cinema l'è bene. Chi ha detto che è più pericoloso perché si sta più vicini, lei cosa ne pensa di questo? Siamo vicini anche noi, siamo vaccinati, non si può vivere sempre isolati, non si può vivere sempre isolati, un po' di vita sociale si vuole. Va bene, grazie. Prego. Ha fatto già anche il terzo re. Come? No, no, ha fatto già. Ha fatto già.